Gineverghe è troppo permissivo, cede il passo al Vobarno e cade per 2-3 davanti al proprio pubblico. I ragazzi di Zucchi che si chierano con 4-3-3 con Gallina tra i pali, Fagoni, Mutti, Fantoni e Turlini in difesa. Cristin, Lauricella, Pasini a centrocampo. Comic, Davide, Bosio e Valotti in attacco partono bene grazie alla punizione di Pasini che calcia però alto. Alla ventiquattresimo però Chimini si inventa un euro-gol dai 35 metri che porta in vantaggio il Vobarno. I gialloblu non ci stanno e rispondono. Alla ventottesimo doppia occasione, prima con Valotti che a tu per tu con Tognazzi calcia addosso alla numero 1 e subito dopo con Cristini che sulla ribattuta calcia piano. E' però il perludio alla gol del Cilic alla trentunesima nuovamente una duplice occasione. In prima battuta Bosio da posizione ravvicinata a centra Tognazzi che respinge la sfera nei piedi di Cristini che non sbaglia e porta in vantaggio i gialloblu. L'ultima chance del primo tempo è degli ospiti con Venturelli che centra la traversa dal limite dell'aria. Nella seconda frazione è sempre un legno ad aprire le danze questa volta e però ciasca a colpire la traversa. I padroni di casa da lì in poi prendono il palino del gioco e trovano il vantaggio con Valotti che dopo aver subito fallo in aria trasforma anche dal dischetto. La rete non sembra almeno inizialmente far abbassare il ritmo al Ciliverghe che colleziona un'altra grande occasione. Cristini calcia a lato da posizione ravvicinata. Da questo momento in poi il Bobarno domina il gioco trovando prima una super occasione con Rassega che si vede negato il gol da un super gallina. Poi riportano il match sul livello del mare serpentina di Venturelli che salta a mezza difesa gialloblu e piazza nell'angolino. Gli ospiti prendono fiducia e vincono in pieno recupero sempre con Venturelli che conclude nell'angolino basso il 2-3. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro chiude l'ostilità e consegna 3 punti alla Bobarno con il Ciliverghe che sarà impegnato fuori casa domenica prossima contro il Alcodogno alle ore 15.30.